Buongiorno, benvenuti a casa mia, benvenuti a Monte Tiberio. Monte Tiberio è uno dei punti principali del nostro programma politico ed il nostro obiettivo principale è quello della sua valorizzazione. Monte Tiberio è formato da tre siti importanti, Parco Astarita, Villa Jovis e Villa Lisis o Villa Fersen. Parco Astarita che fu riaperto a pubblico anni fa e fu uno dei miei primi interventi presso la sovrintendenza per una convenzione. Villa Jovis, stessa cosa, in qualità di Presidente della Commissione Intercomunale per i Beni Culturali, ho avuto l'onore di fare firmare una convenzione con la sovrintendenza per la gestione delle biglietterie di Villa Jovis e Grotta Azzurra. Poi abbiamo Villa Fersen che fu acquistata dal Comune anni fa e questo acquisto fu possibile anche grazie alla finanza innovativa che si inventò l'assessore al bilancio, che è il sottoscritto, che riguardava appunto i BOC, cioè i buoni comunali. Quindi il vantaggio principale era che il tasso era quasi zero, quindi con il minimo sforzo riuscimmo ad ottenere il massimo risultato. A questi tre siti importanti culturali di violenza mondiale noi ritroviamo un'altra proprietà importante, che è la proprietà di Fondo Poma, la proprietà comunale. In questa proprietà insistono due manufatti, due manufatti che bisogna ristrutturare e questo quindi è uno dei principali obiettivi che ci poniamo nella valorizzazione, e cioè la ristrutturazione di questi due manufatti per creare, diciamo, un ecomuseo e per creare un museo dell'arte contadina e delle antiche tradizioni. Questo creerà nuovi posti di lavoro e soprattutto permetterà a giovani di interessarsi anche, diciamo, a questa zona particolare che è la zona di Tiberio. In questo Fondo Poma dobbiamo ricordare che ogni anno, ormai da 100 anni, da oltre 100 anni, si tengono i festeggiamenti della Pietigrotta tiberiana, che è una festa in onore di Santa Maria del Soccorso, che è la Madonnina che è presente in Villa Iovis. E quest'anno ricordano i 40 anni della posizione della nuova Madonnina, che l'altra fu distrutta da un fulmine, quindi grandi festeggiamenti quest'anno per la Madonna del Soccorso. L'altro punto che interessa questo importante comprensorio di Tiberio è il trasporto delle persone anziane e con problemi motori. Anche per questo argomento la nostra proposta è quella di potenziare, aumentare il parco macchine e soprattutto cercare di migliorare il servizio, anche perché nei cinque anni precedenti, l'amministrazione uscente non è stata aggiunta una macchina o è stato migliorato il servizio con l'aumento delle corse, eccetera. Tutto ciò permetterà alle persone anziane e ai disabili di non emarginarsi e raggiungere il centro di Capri e partecipare anche alla vita attiva, culturale e religiosa del paese. Grazie.